Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di massimo trasferimento di potenza. Le prime cose che facciamo è un riassunto del materiale impiegato e anche un riassunto dei requisiti necessari per portare a termine questa esercitazione, per cui partiamo col materiale. Per quanto riguarda il materiale, utilizzeremo certamente una scheda Arduino, questa sia per alimentare il circuito che per prelevare le nostre misure e fare le verifiche sperimentali. Dopodiché due resistenze del valore di 2 Kilo, sono le due resistenze che vedete già qua. E poi un elemento nuovo che non abbiamo ancora mai utilizzato è un potenziometro, questa è una resistenza variabile. Ve lo anticipo, poi vi spiego un po' meglio come funziona. Nel nostro caso una resistenza variabile nel range 0,10 Kilo. Dunque prima di continuare, prerequisiti per portare a termine la seguente esercitazione sono saper far comunicare la scheda Arduino con un codice Python. In questo caso sarà estremamente necessario per poter realizzare dei grafici. Quindi se non avete chiaro come fare una comunicazione seriale tra una scheda Arduino e Python, andatevi a rivedere, c'è il link in questo momento in sovraimpressione, il primo dei video di questa serie con la comunicazione seriale dove vi si spiega come comunicare con Python. Bene, andiamo avanti e intanto vediamo un po' come è fatto questo potenziometro che è un elemento nuovo. Lo vediamo qua sotto, qua vedete esattamente questa scritta 10K, quella è il valore di resistenza massima. Sotto abbiamo tre piedini, tre terminali e poi c'è la possibilità di utilizzare questa manopola che ruotandola fa variare la nostra resistenza interna. Ora, giusto per farvi capire come funziona all'interno, anche se in modo molto schematico, se lo guardiamo dall'alto, lui si presenta così e questi potrebbero essere il terminale 1 e il terminale 2. Praticamente se ora lo prendo sono i due terminali che dovreste vedere qui nell'immagine. Lì, tra questi due terminali, se voi andate a fare una misura, osservate proprio questo valore massimo di 10K. Esiste un terzo terminale, infatti se ve lo rimetto lì in bella vista, lì dietro c'è un altro terminale. Questo terminale è un terminale che adesso io rappresento con una frecciolina e che esce qua fuori, questo è il terminale 3 e io lo posso anche spostare di posizione, proprio con la manopola. Lo posso far andare qua oppure lo posso far andare qua, all'inizio o alla fine di questa resistenza. Ora, è chiaro che se io misuro la resistenza tra i terminali 1 e 3, e il terminale 3 si può spostare da un valore minimo a un valore massimo, cioè lui può scorrere in tutto questo range, qui dove io ho escluso la resistenza, misurerò una resistenza equivalente di 0K. Se io invece ho incluso tutta la resistenza, ovvero ho spostato questo praticamente a coincidere col terminale 2, qui misurerò 10K. E ci sono anche tutti i valori intermedi che noi possiamo ottenere. chiaramente non con una precisione, non sarà precisissima questa cosa, insomma, noi possiamo ruotare questa manopola e ottenere comunque una variazione di una resistenza. Andiamo a vedere come procedere con l'analisi sperimentale del massimo trasferimento di potenza. e facciamo un breve richiamo teorico. Dunque, il massimo trasferimento di potenza si sviluppa su un circuitino molto semplice, un generatore ideale di tensione con in serie una resistenza. L'elemento che vedete qua, normalmente, è quello che viene considerato come il generatore, un generatore con un valore di resistenza interna. Valore di generatore E, resistenza interna R maiuscola. Se noi colleghiamo un carico, e questo carico è una resistenza, e questa resistenza supponiamo di chiamarla R piccolo, il teorema del massimo trasferimento di potenza è quello che risponde alla seguente domanda. Quanto vale il valore di R piccolo, tale per cui la potenza, che adesso vado a mettere in evidenza nel circuito, che assorbe quella resistenza lì è massima, quindi massimizzo il valore di P. Come si sviluppa il conto? Beh, si calcola la corrente I, corrente I assorbita da quel circuitino lì, E fratto R grande più R piccolo, per poi andare a quantificare proprio quella variabile P, la potenza come R piccolo per I al quadrato, vale a dire R per E elevato al quadrato fratto R grande più R piccolo al quadrato. Vado a riorganizzare questi termini in questo modo. E che moltiplica R piccolo fratto R grande più R piccolo tutto al quadrato. E' abbastanza chiaro che questa potenza P sia una funzione della variabile R, vale a dire che se io vario il valore di resistenza, chiaramente varia anche la potenza assorbita da quella resistenza lì. Allora io posso pensare di fare un diagramma, ok? Vado a vedere come varia il valore di questa potenza P in funzione della resistenza R piccolo. Cosa scopro? Scopro che se questa resistenza R piccolo vale 0, quindi sono nell'origine, chiaramente il valore della potenza assorbita sarà nulla. Se questa resistenza R piccolo tende ad infinito, chiaramente qui andremo a 0, lo si vede chiaramente dalla espressione analitica. Siccome nella parte intermedia di valori questo valore di potenza è sempre positivo, significa che avrà una crescita che arriverà ad un massimo e poi scenderà. E questo massimo è caratterizzato da un preciso valore di resistenza. Ed è proprio quello che ci chiede l'enunciato. Quanto vale questo valore di resistenza? Beh, compreso questo, è sufficiente andare a fare la derivata della potenza rispetto a R por uguale a 0 per ottenere il seguente risultato, cioè le condizioni di carico adattato. Scopriamo che se la resistenza R piccolo è uguale al valore di resistenza interna del generatore, siamo in condizioni di carico adattato. E quindi qui possiamo scrivere R uguale a R grande. Qui abbiamo un massimo della potenza, P max. A questo punto il nostro P max, per sostituzione dentro questa espressione qua, diventa E quadro fratto 4R. Ed eccoci qua. Bene, noi vogliamo andare proprio a verificare questa curva sperimentalmente e non ci limiteremo ad una curva, ma proveremo a fare la seguente cosa. Ovvero, cosa succede se adesso la resistenza interna del generatore viene a essere modificata? Vale a dire, cosa succede se la mia resistenza R diventa un R' e questa R' è pari ad R mezzi? Beh, chiaramente io devo modificare anche la resistenza R piccolo che diventerà una R' piccolo pari ad R' e quanto diventa P max primo? Beh, sostanzialmente diventa due volte la P max. Lo si vede da questa espressione. Ok? Per cui, se noi dimezziamo il valore della resistenza interna del generatore, significa che il nostro punto di massima potenza diventa questo e che sostanzialmente abbiamo raddoppiato il valore di potenza massima. Quindi, grossolanamente, disegnato magari non troppo bene, questo è ciò che andremo... Oh, scusate, non l'ho disegnato benissimo. Questo è quello che andremo a ottenere, dove qui avremo il valore di P max primo. Ci mettiamo dei numeri, perché sono quelli che andremo a breve a verificare. Supponiamo che la nostra E sia pari a 5 volt, che la nostra resistenza R inizialmente sia pari a 4 kilom e che la nostra resistenza R' quindi sia pari a R mezzi e quindi 2 kilom. Bene, allora, la prima cosa che facciamo è realizzare uno script in Python che mi generi questo grafico qua, in modo sicuramente migliore rispetto a quello che ho fatto. Poi passeremo alla parte sperimentale. Eccoci qua. Allora, andiamo allo script Python, che io chiaramente ho già realizzato. Questo script è lo script complessivo, che comprende anche tutto quello che serve per la comunicazione con Arduino, dove per ora ho commentato tutto quanto non è necessario in questo frangente. Quindi importo una libreria matematica, importo la libreria per fare dei grafici. Questa qua è una funzione che serve per rendere interattivo il grafico ed è necessario poi per interagire con Arduino, ma insomma il mio obiettivo qui non è spiegare esattamente il codice. Ora, quello che io voglio fare è generare una variazione della resistenza R piccolo. Ecco, lo vedete qua. La resistenza R piccolo è uno spazio lineare che varia dal valore 0 al valore 10. Questi sono kilom, perché poi successivamente sono moltiplicati per 1 e 3, e io ho 100 punti. Dopodiché avrò il mio generatore di tensione da 5 Volt, e poi in un caso la resistenza che vale 2 kilom, e in un altro caso la resistenza che vale 4 kilom. e qui mi calcolo la potenza con la formula che vedete qua che abbiamo calcolato. Quindi R per E fratto R grande più R piccolo tutto al quadrato. Benissimo, a questo punto faccio il plot e vado a verificare cosa succede quando ho la resistenza da 2 kilom oppure la resistenza da 4 kilom. Bene, se eseguo questo codice, quindi vado in IPython ed eseguo il codice maxpowertransfer.py ecco che esce fuori questo grafico e otteniamo più o meno quel grafico che lì vi ho disegnato a mano. Qui vedete la resistenza dove in un caso abbiamo il valore massimo ecco questo ve lo posso ve lo posso anche aggiungere a questa resistenza corrisponde un valore di potenza massima di 1.562 watt anzi no, questi sono millivatt millivatt a quest'altro un valore di potenza massima pari a 3.125 e lì vedete tutti e due rappresentati lì nel nostro grafico che è stato realizzato in Python ok su questo grafico andremo poi a fare delle verifiche sperimentali cioè andremo a vedere se riusciamo a sperimentalmente caratterizzare il nostro generatore e vedere se il nostro generatore si muove esattamente su questo luogo dei punti come facciamo a fare questo? andiamo a vedere come realizzare un circuito che ci permetta di fare questa acquisizione sperimentale andiamo avanti e realizziamo il circuito quindi adesso facciamo l'analisi sperimentale analisi sperimentale dunque il circuito è questo abbiamo il nostro generatore ed è un generatore da 5 volt questo non cambia il generatore da 5 volt lo possiamo prelevare da Arduino quindi questo è il nostro GND e questo è il nostro 5 volt di Arduino ora per riuscire a simulare la variazione di resistenza interna del nostro generatore la divido in due posizioni una prima parte della resistenza interna la metto qua la chiamo R1 e gli do il valore di 2 kg la seconda parte della resistenza interna la posiziono qua la chiamo R2 e gli do un valore di 2 kg chiaramente queste due resistenze anche se c'è il generatore in mezzo sono in serie quindi quando sono tutte e due presenti nel circuito è come se ci fosse un'unica resistenza in serie al generatore del valore di 4 kg lo sposto un pochettino più in basso questo circuito perché poi dovrò fare una leggera modifica modifico questo ok questo qua è il mio generatore ok ci siamo a questo punto colleghiamo un carico il carico è la nostra resistenza variabile questa qua è la resistenza R bene dunque in una determinata questo è il punto A e questo qua è il punto B ok poniamoci il seguente problema noi vogliamo realizzare questo circuito e vogliamo fare un diagramma dove sull'asse X abbiamo R e sull'asse Y abbiamo P che cos'è P? P è la potenza assorbita da questa resistenza bene significa che noi siccome nel momento in cui andremo a variare la nostra resistenza che vi ricordo essere il nostro potenziometro non sappiamo che valore ha dobbiamo misurarla questa resistenza quindi questa resistenza qua va misurata e va misurata anche questa ok quindi per misurare la resistenza R sarebbe molto bello conoscere il potenziale a questo nodo quindi diciamo che possiamo conoscere il potenziale al nodo A lo chiamiamo U A il potenziale al nodo B potenziale al nodo B in modo tale da poter definire questa tensione qua la tensione VAB ok perché io vado a definire la tensione VAB come differenza del potenziale al nodo A meno il potenziale al nodo B a questo punto la resistenza R si potrebbe definire come VAB fratto il valore della corrente I cioè questa corrente qua come faccio a misurare questa corrente perché questa corrente non la conosco abbastanza semplice posso utilizzare la resistenza R2 come se fosse uno shunt amperometrico quindi siccome quella corrente va a finire anche nella resistenza R2 questa tensione qua che chiamo V2 la tensione V2 non è nient'altro che il potenziale al nodo B meno il potenziale del nodo di riferimento che però vale 0 quindi questa coincide con UB e quindi la corrente I io la posso quantificare come UB fratto il valore della resistenza R2 ok? per cui di fatto io posso calcolarmi prima questa e poi andare a quantificare questa resistenza benissimo la resistenza l'ho calcolata e la potenza? beh, la potenza P a questo punto posso definirla o come R per I al quadrato oppure andando proprio sulla definizione la tensione VAB per la corrente I ok? e questa vi ricordo essere anche calcolabile come UA meno UB quindi questa è la terza espressione ok? noi adesso dobbiamo scrivere dobbiamo intanto realizzare quel circuito lì e poi scrivere un codice Arduino che mi permetta di tirare fuori queste tre grandezze la corrente in primis che mi serve poi per valutare la tensione scusate la resistenza e una volta nota questa resistenza io posso calcolare anche la potenza benissimo ora intanto realizziamo il circuito il circuito ve lo faccio vedere qua ok? quindi intanto vediamo quello che abbiamo disegnato noi un generatore e il generatore corrisponde con il 5V e il GND partiamo dal 5V il 5V va alla resistenza R1 che è questa è una resistenza da 1 K dopodiché andiamo alla resistenza variabile eccolo qua questo è il nostro potenziometro che qui viene identificato con la resistenza R3 ma lo leggete anche voi è un potenziometro poi torniamo alla resistenza R2 che è quella che utilizziamo anche come shunt amperometrico e andiamo al GND dopodiché preleviamo il diciamo l'ingresso analogico a 0 portiamo il nodo A e il nodo B lo portiamo all'ingresso analogico A1 ok? se ci siamo convinti del fatto che questo è il circuito da realizzare lo metto di qua e lo realizziamo quindi andiamo a posizionare una resistenza da 2 K nella parte della breadboard che vedete più in alto quindi questa è sostanzialmente la prima resistenza la vado ad inserire qua ecco qua abbiamo la nostra resistenza da 2 K inserita poi vado a prendere uno di questi uno di questi due terminali e lo vado a collegare qui in modo tale che si trovi a essere in serie alla resistenza R1 come vedete il terminale inferiore è andato a finire nell'altra parte della breadboard e quindi in serie al nostro potenziometro vado ad inserire quest'altra resistenza da 2 K che è la resistenza R2 che poi io andrò anche a sfruttare come shunt amperometrico ecco sostanzialmente abbiamo il nostro circuito la resistenza R1 la resistenza R2 e il nostro potenziometro non vi ho ancora spiegato poi come faremo a simulare il fatto che la resistenza queste due resistenze diventino una sola resistenza questo lo vediamo dopo cominciamo a realizzare anche la parte di alimentazione veniamo a prendere il segnale diciamo a 5 volt andiamo a prelevare anche GND e cominciamo a portare i nostri 5 volt alla resistenza R1 e il GND alla resistenza R2 ok? qui abbiamo realizzato il nostro circuito lo vedete esattamente come lo vedete nello schematico poi preleviamo il potenziale di quello che abbiamo chiamato noi nodo A e lo portiamo ad ingresso analogico a 0 eccoci qua poi là ho utilizzato un cavetto un cavetto blu qui ne ho uno arancione quindi permettetemi il cambio di colore oppure se volete facciamo così andiamo a mettere questo di colore arancione almeno è tutto identico a ciò che stiamo realizzando eccoci qua quindi andiamo a prendere il terminale inferiore diciamo del nostro potenziometro e lo portiamo all'ingresso analogico a 1 eccoci qua benissimo ora questo è il nostro circuito è necessario andare a realizzare uno sketch io l'ho già realizzato lo sketch andrà ad inizializzare una connessione seriale ok quindi comunicazione seriale poi andiamo a misurare il potenziale al nodo A misurare il potenziale al nodo B se vogliamo qua devo mettere U A e U B per essere coerente con quello che ho scritto ok vado a modificare dappertutto queste variabili ok potenziale al nodo A potenziale al nodo B poi cosa vado a fare lo sposto da questa parte e vi rimetto e vi rimetto le equazioni che abbiamo scritto quindi questa è l'equazione 1 calcolo la corrente questa è l'equazione 2 calcolo la resistenza e questa è l'equazione 3 calcolo la potenza ora lasciate perdere un attimo questa parte e concentratevi su questa cosa faccio ora invio alla mia seriale le tre grandezze la corrente moltiplicata per 1 e 3 quindi sarà espressa in milliamper la resistenza moltiplicata in 1 in 10 alla meno 3 quindi sarà espressa in kilom e la potenza moltiplicata 1 in 10 alla 3 quindi sarà in millivatt ecco questa cosa qua serve semplicemente per risolvere l'eventuale problema di quando il nostro potenziometro per qualche motivo non fa ben contatto se non fa ben contatto lui diventa un circuito aperto se diventa un circuito aperto la corrente è nulla e quindi il valore di resistenza va ad infinito se andasse ad infinito lui andrebbe a spedire questo valore anche al nostro futuro script python che sostanzialmente si arrabbierebbe e non saprebbe come trattare questo valore per cui io vado a verificare che se il valore di resistenza è andato ad infinito di spedire di forzare la spedizione sulla seriale del valore 000 un valore che poi verrà successivamente trascurato in python bene allora intanto proviamo a connettere la nostra scheda verificare che la connessione sia a posto quindi vado in tool nella mia porta che è la cm0 perfetto e andiamo a inviare questo script alla nostra scheda arduino lo script è stato inviato e possiamo da qui verificare la comunicazione col serial monitor ecco direi che funziona in questo momento la nostra resistenza è di circa 6.2 kg se io ruoto la manopola come vedete varia il valore di resistenza qui sono a quello che è il valore massimo non riesco a raggiungere 10 ora comincio a ruotare nell'altra direzione e mi porto sostanzialmente aspettate che sto facendo fatica a ruotare ok mi porto ad un valore molto basso circa 0 eccoci qua 0,6 perfetto benissimo muoviamoci in una condizione questo filo qua è troppo colto eccoci qua mi metto intorno ai 3 kg benissimo chiudo la comunicazione seriale e torno al mio script in python perché adesso il nostro interesse mi sposto da questa parte è abilitare la comunicazione seriale quindi importo questa funzione scusate questa libreria serial dopodiché attivo questa cosa qua che si chiama decoratore è un concetto abbastanza avanzato di python il decoratore è qualcosa che serve a decorare una funzione esistente in buona sostanza si prende in input una funzione e la esegue e può aggiungere delle operazioni fatte prima o dopo in questo caso questa funzione add measurement sarà con questa linea utilizzata utilizzata per decorare la funzione power locus che è quella che abbiamo utilizzata precedentemente per tracciare gli andamenti analitici e teorici dei nostri due generatori e la eseguirà e poi andrà ad aggiungere le misure che saranno in queste variabili x e y quindi in buona sostanza aggiungendo questo decoratore la funzione power locus noi facciamo sì che il funzionamento di power locus sia modificato oltre a tracciare il caso teorico verranno aggiunte sul grafico anche le misure queste misure verranno aggiunte come nella forma di marker neri quindi noi potremmo visualizzarli in real time sul nostro grafico benissimo a questo punto cosa facciamo dobbiamo leggere e inizializzare la comunicazione seriale questa l'abbiamo verificata un attimo fa dovrebbe essere corretta inizializziamo i vettori x e y dove finiranno i valori di resistenza e i valori di potenza inizializzo la figura con una dimensione un pochettino più visibile e qui parte il ciclo che sostanzialmente va a di volta in volta beccarsi i valori di corrente i valori di resistenza e i valori di potenza li aggiunge alle variabili x e y e la mia funzione draw now che chiama power locus opportunamente modificata da questo decoratore mi dovrebbe fornire gli andamenti analitici e teorici su cui vengono sovrapposte le nostre misure misure che noi andiamo a leggere qua e andiamo a decodificare in un vettore diciamo in valori di corrente resistenza e potenza come fatto nel video nel primo video di questa serie di video dove impariamo a fare delle esperienze di laboratorio ok salvo e vado a eseguire il nostro script si è arrabbiato qualcosa vediamo un attimo se mi sono dimenticato se mi sono dimenticato aspettate aspettate un attimo ok qui è tutto ok facciamo così esco ok perfetto sposto il nostro grafico di qua non so per quale motivo si è di nuovo arrabbiato quindi lo faccio di nuovo partire ok ecco ci siamo in basso a sinistra vedete i valori che sta acquisendo siamo ad un valore molto prossimo a quello che è il massimo trasferimento di potenza perché la resistenza è circa 4 K ok adesso torno a farvi vedere ciò che sto per fare e magari tento di rendere visibile il tutto ok quindi qua vedete il grafico in basso a sinistra vedete i valori che vengono modificati e questi sono i marker che rappresentano quello che io andrò a diciamo misurare modificando il valore di questa resistenza utilizzo il cacciavite anzi vado a mano perché sono un po' più preciso vedete che modificando il valore di resistenza mi modifica il punto di misura in questo momento la nostra resistenza interna del generatore è pari a 4 kg e quindi ci stiamo muovendo sulla curva verde ed è esattamente quello che otteniamo modificando la resistenza di carico eccoci qua stiamo ripercorrendo al variare della resistenza del potenziometro questi valori ok tento di mettermi più o meno nella zona che corrisponde al massimo trasferimento di potenza per la curva verde come vedete in questa zona qua la resistenza adesso è 3.8 kg bene come faccio a spostarmi sulla curva rossa per spostarmi sulla curva rossa io devo cosa devo fare devo far diventare la resistenza interna del nostro generatore pari a 2 kg sostanzialmente devo far sparire una di queste due resistenze ad esempio la resistenza R1 che è quella che vediamo qua come facciamo direi che possiamo cortocircuitarla prendiamo un cavetto come questo e andiamo a cortocircuitare questo punto quello che abbiamo mandato ad a zero intanto qui mi è saltata la misura quindi ok siamo di nuovo su 3.8 e andiamo adesso a inserire il tutto qui ecco siamo già passati lo vedete con quell'unico punto sulla curva rossa se adesso tento di spostarmi verso il massimo trasferimento di potenza cioè vado a ruotare il mio potenziometro sto andando nella direzione opposta quindi ci siamo eccoci qua siamo adesso molto prossimi al massimo trasferimento di potenza come vedete là in basso sul terminale che c'è sotto il grafico siamo esattamente a 2 chilom se continuassimo a scendere quello che succede è che andiamo verso l'origine eccoci qua siamo arrivati all'origine adesso risaliamo questa curva e ci spostiamo anche nell'altra zona quindi aumentiamo aumentiamo adesso siamo intorno a 5.75 chilom andiamo ancora avanti andiamo ancora avanti e siamo intorno a 9.12 chilom ecco se adesso io non tocco questa resistenza e riporto la resistenza del generatore ad essere pari a 4 chilom risalto sulla curva che sta sotto come faccio a fare questo mi basta rimuovere uno di questi due estremi del cavetto bianco ecco che siamo saltati sulla parte verde della nostra curva ok e con questo direi che è tutto abbiamo visto il principio del massimo trasferimento di potenza dal punto di vista analitico e l'abbiamo verificato dal punto di vista sperimentale vi saluto e ci vediamo alla prossima esercitazione